Uè, usciamo? Sì, usciamo! Ma dai, vatti a vestire! Ma dove andiamo? A fare che? Con chi? Perché? Ma dai, ci andiamo a divertire! Ah, ma tu vuoi fare la baldoria? Sì! Io no, non mi va! Ah, sai che c'è? Stato alla casa! Un bel filmetto! Tisanina! Tisanina e un bel bambino! Affetti! Sul letto? Sì, sul letto! Uè, usciamo? Sì! Era di se usciamo! Io andai a correre se... Due parole, se usciamo! Eh, prima mi hai detto cosa di se e basta! Uè, usciamo! Sì, con chi? Buonanotte! Eh, non c'è il pezzo, ma fra culo! Tu e tutti sti cazzi! Era di se usciamo! Uè, usciamo! Sì, con chi? Eh, non c'è il pezzo, Dio! Cioè, ma se volessimo andare nel mondo del cinema, no? Adesso ci penso un attimo! Tu non ti raccordi, manco una battuta! Come fa? Ma io dovevo raggiare il cinema? Per cinema! Era di se usciamo! Come per dire? Ma che usciamo? Ok, ci riproviamo! Sei pronto? Uè, usciamo! Sì! Porca mad**a! Un sacco di coglione! Sì! Cioè, era di se usciamo, come per dire? Cioè, è semplice! Se prende un bambino di nanno che non parla, lo so, fa! Eh, vabbè, io non so buono! Ho capito! Io ho mena nanno! Vai, proviamo, riproviamo, vai! Uè, usciamo! Sì, usciamo! Ma dai, vatti a vestire! Sì! Non mi ricordo la prima parola! Era, ma dove andiamo a fare che, con chi, perché? Ma dove andiamo? Perché, con chi, con che? In che senso? No, è a fare che, con chi, perché? Fallo tipo come me, a fare che, con chi, perché? 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 Eh, a fare che, con chi, perché? Ma non è già la... No! Hai un attimo di scasamento, ci vuole! Eh, a fare che, con chi, perché? Riprova! A fare che, con chi, perché? Ok, adesso da inizio! Ma dove? Ma dove andiamo? A fare che, con chi, con che, perché? No! A fare che, con chi, perché? È più semplice! Vai! Ma dove andiamo? Ma dove andiamo? A fare che, con chi, perché? Ma ci andiamo a divertire! Ah! Ma vogliamo fare la baldoria! Non è così? No! Tu vuoi fare la baldoria! Tipo, no? Riproviamo! Ma dai! Ci andiamo a divertire! Ah! Ma tu vuoi fare la baldoria! Sì! Sai! A me non mi va! No! Tu devi di prima! Io no! Non mi va! Io no! Non mi va! Anzi! Sai che c'è? Che io sto a casa! No! Anzi! Sai che c'è? Statta la casa! Anzi! Sai che c'è? Che io sto a casa! No! E allora come? Statta la casa! Statta la casa! Statta la casa! Vai! Anzi! Sai che c'è? Ma io non ho capito che... Anzi! Sai che c'è? Eh! Statta la casa! Andiamo bene! No! Statta la casa! Tu me la dì la parola precisa! Statta la casa! Ah! Anzi! Sai che c'è? Statta la casa! Bravo! Così! Io non ho capito quell'altra parola! Un bel filmetto! Tisanina e Kinder Fetta! Mi che fetta che è? Kinder Fetta! Sì ma se tu me lo dici in italiano io come puoi capire! Kinder in italiano vuole di bambino! Allora è bambino affette! Un bel filmetto! Un bel filmetto! Un bel filmetto! Tisanina! Tisanina e un bel bambino! Affette! Affette! Sul letto! Sì! Sì! Sul letto! Che dormivo pure! Eh! Quindi ripeti? Quasi... P***! Ragood! Mara! No! Maio lo dia! a acusano parecchia